L'ite per un parcheggio a Napoli. È successo in via Consalvo dove un architetto di Bacoli, una donna incensurata di 62 anni, ha parcheggiato la sua auto proprio all'esterno dell'abitazione nella quale stava eseguendo i lavori di ristrutturazione. Lasciando l'auto non ha però notato che il suo veicolo struiva il passaggio ad un'altra residente. Quest'ultima, infastidita, ha dato vita ad una lite durante la quale anche i proprietari dell'appartamento di ristrutturazione sono intervenuti. Ed è così che un settantenne insieme al figlio cinquantenne, già noto alle forze dell'ordine, per difendere il proprio architetto hanno aggredito l'altra donna. La zuffa si è ulteriormente allargata quando il figlio ventenne della donna, aggredita, si è lanciato nella mischia per difendere la madre e ha colpito i due uomini a pugni. Ha poi recuperato un paletto di ferro e ha completamente sfasciato l'utilitaria che era all'origine del contendere. Padre e figlio sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo e sono poi stati dimessi con una prognosi di 10 e 30 giorni. In ospedale anche la donna che aveva dato via alla discussione, al CTO le hanno prescritto 10 giorni di riposo per una contusione alla testa e ferite lacero contuse alla nuca. Il ventenne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Forigrotta e dal nucleo operativo di Bagnoli e dovrà rispondere di lesioni aggravate.